Sono quasi 30.000 gli appassionati di ciclismo che cercano di ottenere uno dei 9.000 pittorali disponibili per la 28esima edizione della Maratona delle Dolomiti. Negli anni il comitato organizzatore ha strutturato un sistema di adesione alla Maratona che da un lato è abbastanza complicato, però in una certa maniera riesce a soddisfare un po' tutte le esigenze di tutti i partecipanti. Bene o male noi iniziamo con ottobre, apriamo le prescrizioni, per tre settimane c'è la possibilità di prescriversi, una volta chiusi le prescrizioni poi c'è un sorteggio, un sorteggio dove bene o male la metà dei partecipanti vengono sorteggiati, nel senso che dai 9.000 un 4.500 varranno poi sorteggiati. Il resto delle iscrizioni vengono poi divise tra iscrizione a prezzo maggiorato, pacchetti per tour operatori e così via.